Il prossimo 4 dicembre si vota per il referendum costituzionale. Fino a domenica sarà possibile richiedere il duplicato o la sostituzione della tessera elettorale. Nel caso in cui la tessera non sia più utilizzabile per esaurimento degli spazi, per deterioramento, smarrimento o furto, i cittadini potranno recarsi presso la sede della municipalità di appartenenza ed ottenere il rilascio immediato del duplicato. Per tutta la settimana le postazioni delle municipalità saranno aperte dalle 8 alle 18. È prevista poi l'apertura straordinaria per sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23. Infine è sempre possibile richiedere il rinnovo o il duplicato con rilascio immediato presso la sede del servizio elettorale al Parco Quadrifoglio.